Fatta signore, bellissimo, fatta, depositato, evviva! Arrivata a Venezia da Mezzo Veneto, una delegazione dei membri dell'Associazione Luca Coscioni esce dalla sede del Consiglio regionale di Palazzo Ferrofini. Hanno appena depositato una proposta di legge e di iniziativa popolare per il suicidio medicalmente assistito di chi soffre di malattie inguaribili e particolarmente dolorose. Noi non smetteremo mai di chiedere al Parlamento una legge nazionale, ma nell'emore, nell'assenza di questa possibilità, noi chiediamo che le singole regioni si attuino di una normativa precisa, in modo tale che il diritto sia per tutti. La legge per ora in Italia non c'è, ma il trattamento potrebbe essere consentito in determinate circostanze a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale. L'invito alla regione è proprio quello di recepire e regolamentare quanto stabilito dalla consulta. Ognuno di noi ha un proprio senso della propria vita e di come autodeterminarla anche fino alla fine. Il nostro non vuole essere un non rispettare le posizioni altrui, ma garantire a chi vuole ricorrere al suicidio medicalmente assistito, così come già sancito dalla Corte Costituzionale, tempi e modalità certe. Il Comitato Promotore della legge di iniziativa popolare si è proposto di raccogliere almeno 7.000 firme di cittadini veneti. Vogliamo far sì che tutti abbiano consapevolezza di questa possibilità e della nostra volontà di appunto dare tempi e procedure certe a chi ha i requisiti previsti dalla Corte in modo che ci sia un trattamento uniforme per tutte le aziende sanitarie della Regione Veneto e poi anche nelle altre regioni in cui verrà presentata lo stesso tipo di iniziativa.